E' una persona che sa assumersi le propria responsabilità e guardate che nella pubblica amministrazione trovare funzionari di alto livello che abbiano il coraggio di mettere una firma e di decidere è una cosa rara e io te lo voglio riconoscere pubblicamente perché è un grande merito e io spero si diffonda. Che questo sia il dovere della pubblica amministrazione, assumersi le responsabilità. Dico solo che è un giorno importante perché credo che oggi si sia messa almeno la fine alla parola se. Se si fa, se si apre, se si... Oggi la chiusura lavora testimonia che c'è un periodo ancora importante da affrontare ma siamo pronti, la sanità è pronta, l'azienda pure ad affrontare il come e quando e questo come e quando per l'apertura sarà molto breve, molto intenso ma molto breve, in modo che non in tarda primavera si apri l'ospedale ma non mi resta che dire che...